Come è oggi inaugurare i parcheggi del Forte? Diciamo che è un passo ulteriore a quello che è la conclusione dell'intervento importantissimo per la città di Ventimiglia che ha fatto Cana del Forte, quindi la marina Cana del Forte. A luglio abbiamo inaugurato lo specchio Acchio, è stata una cosa importantissima, è già tanto, sulla chiesa di una serenissima il principe Alberto l'ha inaugurato, oggi facciamo un altro pezzo, ritengo un pezzo anch'esso importante anche se parliamo di parcheggi perché con il collegamento dell'ascensore che penso che a breve sarà collaudato e diamo la possibilità a chi viene alla maniera di Giuseppe di parcheggiare agevolmente non solo a chi viene al porto e ai negozi ma anche a chi abita nel centro storico perché come vi sapete c'è un problema mai da anni di dare un parcheggio anche agli abitanti del centro storico e ai turisti che vogliono visitarlo. Quindi mi sembra che questa sia una risposta puntuale a quelle che sono le esigenze sicuramente di marina del Forte, di Cana del Forte e anche di quella che è la popolazione della Favis San Giuseppe del centro storico. Quindi io ringrazio sicuramente la società che sta portando avanti con attenzione se voi anche a visitarli sono i parcheggi come io ormai da tempo dico, tutto è costruito alla Monegasca con una particolare attenzione anche ai particolari, voi sapete che ai particolari qui ci sono molto locali e questi sono particolari veramente curati e faccio i complimenti al Presidente Dottor De Lerono e a tutta quella che è il Consiglio d'amministrazione che il terzo porto di Mono come ormai ci dice veramente un fiore locale per la città di 20 mesi. Grazie.